Ciao ragazzi siamo qui per recensire un fucile davvero interessante, un fucile che sta andando di moda abbastanza ovvero stava perché è già ormai superato però comunque ora abbiamo la recensione e lo vediamo meglio nel dettaglio. Si tratta del HK Eccler & Coq su licenza della Umarex della VFC il 416. Quindi apriamo la scatolina, scatolina insomma enorme, fucile bello possente, eccolo qua, ci viene presentato così, tutto bello in cellofanato, con questa struttura di cartone che nessun'altra scatola io ho mai visto, come vedete è tutto fatto su tasselli di cartone. Qui abbiamo manualistica varia, come vedete targhettino Umarex e un bel libretto di istruzioni, adesso qua è tutto sigillato, non lo voglio aprire, anche perché questo come sapete ormai i fucili me li manda il mitico negozio Armis of Tiger, trovate il link in descrizione, quindi non voglio andare ad aprire niente di sigillato, vabbè, quindi questo lo mettiamo da parte. Qui troviamo il caricatore che è davvero pesante, poi qui adesso voglio che qualcuno di voi nei commenti mi scriva che cazzo è sta cosa, perché qui sopra c'è lo sportellino per inserire pallini, ma sotto non c'è una cippa di minchia. Ho provato ad aprirlo, ho provato a premere tasti strani, non voglio rompere niente, quindi se per caso c'è tipo una cordicella, ma non credo, boh, scrivetelo nei commenti perché questa cosa proprio non la conosco. E qui troviamo il fucile, eccolo qua, è tutto il suo splendore, tutto realizzato in alluminio, infatti è abbastanza leggero, come vedete è molto grosso come fucile, pesa sui due chili e mezzo, ma non sembra, a vederlo così sembra molto più pesante, ma fidatevi che prendendolo in mano non sembra per niente. Ok, il nostro amico 416 costa la bellezza di 400 euro circa, come detto prima pesa due chili e mezzo, più o meno, e è lungo 80 centimetri con calcio chiuso e 90 centimetri con calcio aperto. Allora, partiamo dal calcio, come vedete un calcio totalmente diverso da qualsiasi altra cosa mai vista prima, ovviamente questo è il 416 e questo è il suo calcio. Mentre il tastino è qui sotto, si preme e ha le sue solite cinque posizioni, fondello gigante spessissimo in gomma, molto confortevole, qui troviamo il logo Eccler & Coq. Qui sopra abbiamo gli anelli per la cinghia, però come io dico sempre è una cosa scomodissima averli nel calcio, ma è meglio averli qui. Qui purtroppo, come vedete, non veniamo forniti di nessun tipo di attacco per cinghia, dovete sostituirlo voi. E ok. Poi, subito avanti troviamo leva d'armamento classica, che come adesso vedremo funziona, ha il ball catch funzionante, che però purtroppo in questo modello è un pochino duro, difetto di fabbrica. Come vedete qui rimane bloccato, se io premo, vedete rimane un po' lì e bisogna tirarlo avanti un po' con il dito, ma non è durissimo. Ci si può tranquillamente fare l'abitudine. Però, come ripeto, è un difetto di fabbrica, non di questi fucili in generale. Tacche di mira, che quello posteriore, per quelli che conoscono l'MP5, è praticamente identica, con le varie aperture, ci sono vari buchi, dal più largo al più piccolino, come vedete, ci sono anche numeri sotto, 3, 2, 1, bla bla bla. Metà in plastica e metà in metallo. Questo pirulino qui è in plastica, questo qui e la ghiera sono in metallo. Il fucile dà veramente un'idea di solido, proprio anche il rail rifinito benissimo, tagliato al CNC, giustamente, perché un fucile così costoso se non è tagliato al CNC mi incazzo. Si vede subito dalle scanalature. E la tacca di mira anteriore, che può ricordare una specie di... una sorta di modello Troy, però non abbattibile e obesa. Questo è il modo come io riesco a descrivervela. Vabbè. Tornando indietro, qui abbiamo loghi serigrafati Eckler & Coq GmbK, License, the trademark of Eckler & Coq GmbK, poi qui calibro 6 mm e poi delle incisioni serigrafate, perché sono appunto incise e poi sopra sono serigrafate, ma dai, grazie al cazzo, del colpo singolo, sicura e raffica, che come vedete hanno uno stile tutto loro. E qui, come vedete, c'è giusto 30, perché giustamente nel fucile vero la raffica dura 30 spari, perché dentro ci sono 30 proiettili. selettore, ottimi scatti, qui c'è questa targhettina, ma si leva, non preoccupatevi, se vi lascia un po' di appiccicoso, una passata di alcol e via. E qui troviamo altri loghi, HK, HK416, di calibro 5,56 mm x 45. Quindi da un lato abbiamo i loghi originali e dall'altro, anche questi credo siano originali, però qui, come vedete, c'è il calibro 6 mm. Gli hanno dovuto mettere sta cagata qua, che appunto per i fanatici del realismo, quella lì è un po' una pecca, però vabbè, dettagli. Qui davanti, come vedete, ci sono altri due attacchi, credo, per la cinghia. Sono davvero molto robusti, quindi andate tranquilli. E spegni fiamma, che non è removibile. È durissimo. Credo che sia removibile, ma è davvero duro. Dovete armarvi di pinze e staccarlo con della furia, che manco Dio lo sa. Ok. Ah, ecco, un'ultima cosa. Il grip, come vedete, è ciccione. Non so come descriverlo. È molto grosso, può ricordare quello classico, perché comunque finisce qua semplice, non è come il Miad, però qua proprio diventa grasso. E qui sotto abbiamo questo metodo di regolazione, con questa vite. Ah, sì, ecco, vedete, si apre. E sotto c'è la regolazione del motorino. Là. Questo qui è un tappo di protezione, che adesso non so più come... Ah, ok. Sì, sto buttando giù la videocamera. Va bene. Adesso andiamo a inserire la batteria per sentire un pochino come spara questa bestiola. Quindi andiamo a togliere il calcio, che semplicemente basta alzare questo pirulino un po' di più. Ok, come vedete, allora, il suono non mi fa impazzire, è un po' troppo acuto, però la reattività del colpo e soprattutto la velocità della raffica, considerate che questa qui è una 7.4, è davvero notevole. Quindi se volete un fucile tamarro, perché è tamarro, diciamo anche molto realistico, perché le rifiniture sono davvero favolose. Abbiamo loghi ovunque, incisioni, tutto proprio fatto come si deve. È un fucile, come vi ho detto, che sta andando ancora di moda. Ci sono molte persone che ce l'hanno. Diciamo, è da qualche mese che si vedono un casino di foto di questo gioiellino qui. E niente, quindi, se vi piace ve lo comprate. Sotto vi lascio il link in descrizione del negozio. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Thanks for watching.